Non basta accompagnare gli imprenditori ma occorre creare le condizioni per consentire loro di penetrare i mercati internazionali fornendo dei punti di riferimento. Le nostre camere di commercio all'estero funzionano al meglio quando fanno questo lavoro. Con queste parole la presidente della regione Deborah Seracchiani è intervenuta alla 24esima convention mondiale delle camere di commercio italiane all'estero che si svolge in queste giorni a Trieste. Nella mattinata di oggi sono intervenuti alla convention anche il presidente di Asso Camere Estero Leonardo Simonelli, il presidente di Unione Camere FVG Giovanni Pavan, il presidente della Camera di Commercio di Trieste Antonio Paoletti, il sindaco di Trieste Roberto Cosolini e la presidente della provincia Maria Teresa Bassa Poropat. Aprendo i lavori all'incontro del titolo Exportare, nuovi scenari per il Made in Italy, la presidente ha sottolineato come in Friuli Venezia Giulia stiamo cercando di accompagnare l'export che finalmente fa registrare un segno positivo dopo un periodo difficile. In maniera determinata abbiamo creato nuove condizioni per muoverci come un sistema, garantendo la presenza delle istituzioni nelle iniziative commerciali all'estero che la regione insieme alle Camere di Commercio ha fortemente sostenuto. I risultati si sono visti, ha aggiunto Seracchiani, come testimonia il rafforzamento della nostra presenza nei Balcani con protocolli di intesa che riguardano gli istituti di ricerca ma non solo. Con il commissario dell'autorità portuale di Trieste abbiamo avviato una collaborazione che consenta allo Scalo Giuliano di ambire nuovamente al ruolo di riferimento di un'ampia area del Mediterraneo. Per farlo servono alleanze con regioni e paesi vicini e nei prossimi mesi auspicchiamo di chiudere degli accordi di programma con la Baviera, importanti per la capacità dell'Italia e del nord-est di intercettare traffici che altrimenti si muoverebbero verso il nord Europa.